Il conflitto che hai all'interno del tuo io influisce sulla tua psiche semplicemente a livello subconscio quindi fisicamente stai bene, tu ripercuoti quelle che sono le tue ansie solo a livello subliminario Dottore? Eh sì? Si ricorda il paziente che crede di essere un treno? Ah sì sì, lo faccia accomodare No, ha telefonato, dice che viaggia con 25 minuti di ritardo Grazie